Dopo il successo dell'edizione primaverile dal 15 settembre parte il viaggio autunnale in compagnia dei weekend gastronomici. Si tratta del 41esimo anno di una delle manifestazioni più longeve di successo dell'intera regione Marche, promossa e curata da Confcommercio Marche Nord. Un'iniziativa importante che negli anni ha fatto crescere e conoscere la cultura gastronomica e tanti luoghi del territorio. Abbiamo fatto conoscere i ristoranti, crescere la qualità della gastronomia e movimentare dal punto di vista turistico le nostre località. Per questo abbiamo abbinato anche in questa edizione i weekend gastronomici all'itinerario della bellezza. All'interno della guida troviamo i riferimenti e una pagina per ogni comune, i 25 comuni che quest'anno partecipano all'itinerario della bellezza. Alcuni numeri fanno ben comprendere la portata dell'iniziativa. 44 ristoranti coinvolti e 30 località interessate fino al primo dicembre. Gli anni passano ma i weekend gastronomici continuano a destare interesse con tantissimi affezionati che giungono anche da lontano per partecipare agli appuntamenti. Tra i punti di forza dei weekend gastronomici l'ottimo rapporto qualità-prezzo, dunque un buon menù ad un prezzo che risulta più che promozionale. Questo è l'altro elemento che ha fatto la fortuna dei weekend gastronomici. 26-29 euro, limite massimo con due piatti a base di tartufo, quindi radice lunga, con dei menù straordinari, di grande qualità, menù molto ricchi, il cui prezzo si giustifica solo per la promozione che noi facciamo. Quindi gli 11-12 mila cittadini che prenotano nei ristoranti in ogni edizione autunnale sono la dimostrazione della bontà dell'iniziativa e del fatto che l'abbinamento prezzo promozionale e certezza per il consumatore, perché il consumatore sa esattamente cosa mangia, cosa beve, anche il costo dell'acqua o del caffè, sono la formula vincente di questa iniziativa. Questa iniziativa prima di tutto è in fiore all'occhiale della Concommercio, che ci tiene tantissimo. Non avremmo mai pensato che quando si è cominciato questo itinerario avrebbe avuto un successo tale e avrebbe così tanta vita. Certamente è stato indovinato una cosa, che il gustare un menù buono a prezzo modico ha inciso a far muovere tante persone e questi ristoranti hanno capito che era la formula giusta. Lo dimostra che siamo arrivati ai 41 anni e Concommercio è fiera di questa cosa perché sicuramente ci dà un prestigio notevole.